Durante un controllo del territorio in località Prigianello, i carabinieri della territoriale della specialità forestale hanno localizzato una struttura dove erano custodito dei cani. Al momento del sopralluogo erano presenti 14 animali, la maggior parte femmine di Lazza Segugio dell'Appennino. Alcuni cani non erano muniti di microchip all'intestatario dei cani in banca dati nazionali, tuttavia figuravano un numero significatamente maggiore di animali. Egli non era in possesso di alcuna attualizzazione per l'esercizio dell'attività di allevamento. Dagli accertamenti eseguiti è risultato che la struttura dove erano ricoverati i cani, abusiva dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Il proprietario, un operaio di 67enne nato e residente a Crotone, è stato deferito all'autorità giudiziaria per costruzione abusiva. Per le violazioni di carattere sanitario doveva provvedere il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, già informato dei fatti dai militari. L'intervento dei militari volto a prevenire il maltrattamento degli animali ha consentito di bloccare una condotta illegale nel territorio crotonese.